Energie rinnovabili rispetto al 2022 c'è stato un piccolo passo avanti, ma non basta. Considerando la media delle installazioni negli ultimi tre anni, nel 2030 l'Italia riuscirà a raggiungere solo il 25% degli obiettivi climatici in tema di sviluppo delle fonti rinnovabili, centrando l'obiettivo di 90 gigawatt di nuova capacità non prima del 2046, ovvero con 16 anni di ritardo. In estrema sintesi è quanto emerge sul tema dal rapporto 2024 di Lega Ambiente. In Abruzzo il trend è simile. Nel 2023 la produzione delle rinnovabili è stata pari a 2544 megawatt ora, cioè 2 kilowatt per abitante. La parte maggiore arriva dall'idroelettrico, al secondo posto c'è il fotovoltaico, al terzo l'eolico. Anche questi dati indicano un lieve incremento, ma resta un problema di fondo. Silvia Tauro, Lega Ambiente Abruzzo. L'Abruzzo purtroppo negli ultimi anni è diventata la regione delle moratorie. Più volte la legislazione regionale è stata sanzionata dalla Corte Costituzionale e questo sottolinea quindi una mancanza di una reale volontà politica di puntare sulle rinnovabili e un freno quindi a una corretta programmazione dell'impiantistica sul territorio. Un punto critico credo che sia anche la mancanza di una legislazione chiara e forte su questi temi. La prima cosa che chiediamo come Lega Ambiente dal livello nazionale a quello locale è proprio una semplificazione normativa che raccordi insieme tutte le norme sui procedimenti autorizzativi perché siano una guida sicura non solo per le imprese ma anche per le comunità e i territori che si trovano a confrontarsi con i progetti.